Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video sono maullo941 e oggi siamo tornati con la nostra tic tac carceraria praticamente A giocare a Fall Guys, ho avuto un attimo di confusione Detto questo ragazzoli, prima di partire col video e cercare di riuscire a guagliare il risultato dello scorso video E io vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto e per i suggerimenti che state dando a questa serie Vi ricordo di seguirmi sui social mi trovate come maullo941, link in descrizione Se volete supportare il canale con delle piccole donazioni potete farlo tramite Paypal Trovate sempre in descrizione il link per poterlo fare Detto questo partiamo con il video signori miei Ok, primo livello della giornata signori Dizzi Hikers Ok, quello in cui dobbiamo saltare nei... questo non so se l'abbiamo mai fatto negli episodi precedenti Però l'ho visto su Youtube, sono onesto, l'ho visto su Youtube quindi so più o meno in cosa consiste Quindi dobbiamo cercare semplicemente di portare, di arrivare prima degli altri Andando nelle piattaforme giuste Si qualificano? In quanti? Si è bugato tutto No, ok, si qualificano in 45, c'è stato un attimo che c'è stato un bug terribile Si qualificano in 45, noi partiamo in seconda fila E subito c'è lo scatto vincente Seguiamo il lupo, seguiamo il lupo, seguiamo il lupo, salta Grande la nostra tic tac carceraria No, abbiamo preso una mamma che botta che abbiamo preso terribile Dai così, dai così, salta, salta così, salta così Dai, dai, dai che recuperiamo, dai che recuperiamo Dai che recuperiamo Valentino Rossi Dai, dai così Dai, ma che facciata Dai, devi saltare però zio No, 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 no Che stai facendo? Va bene, 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 va bene Ok, abbiamo raggiunto il primo livello Siamo praticamente ultimi, però va bene Perché ricordiamoci che gli ultimi saranno i primi Mamma che me la vedo in faccia questa palla Grande, ok, ok, vai, vai, veloce, 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 veloce Gira di qua, gira di qua Vai tic tac, vai tic tac Vai tic tac che riusciamo a salire Ok, dai, 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 veloce, veloce, veloce Altro giro di, altro giro di, 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 di dischi rotanti Dai, 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 salta Grande, salta Grande, così, 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 dai, dai, dai Che riusciamo a recuperare qualche posizione Ma perché io parlo? Ma porca di una miseria Perché parlo? Alzati, alzati Alzati, grande tic tac Dai, 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 sali, 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 sali Sono arrivati già in 10 Porca miseria, in 13, in 15 Siamo messi malissimo, raga, siamo proprio messi male In 25 già sono arrivati Già sono arrivati in 25 Dai, 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 la palla lascia la verde Lascia la verde, non dobbiamo giocare a calcio In 39, in 41, in 42 Niente, noi continuiamo a rotolare, eliminati Ma porca miseria, non riusciamo mai Il primo tentativo non ci riusciamo mai a riuscire a passare Porca miseria, veramente E siamo stati eliminati Primo giro già eliminati, raga Sempre così, il primo livello ci eliminano subito Che cosa, che cosa saltelli? Tic tac Ci hanno fatto, hanno fatto il 23 strisce praticamente E te sei contento Ma porca miseria, dai, dai, ripartiamo subito Ripartiamo subito, carichi, carichi Ok Primo livello del secondo tentativo, signori miei Il door dash Ricordiamo, noi faremo sempre due partite Due tentativi a video, raga Due tentativi a video Riusciremo qualche volta forse a vincere Allora, la prima volta Veniamo eliminati sempre al primo livello Vediamo se questa volta Come nel video precedente Il secondo tentativo Ci porta bene Vediamo Questo è il livello dei saldi praticamente Quando ci sono gli sconti Che tutti si Si Corrono per cercare di arrivare Praticamente All'oggetto che è in saldo Da comprare E quindi noi dobbiamo riuscire Partiamo terzi Ok, ok raga Quando noi partiamo terzi Siamo sempre fortunati Abbiamo sempre la fortuna Quando partiamo in terza fila Scusatemi No, terzi Quando partiamo in terza fila Riusciamo sempre a qualificarci E andare bene Se non sbaglio Cioè, ci può essere Ma perché stanno giocando a football con noi? Siamo una tic tac onesta Noi, perché ci pigliano a calci? Porca miseria Non siamo in saldo Dai, dai Ok, quella l'ho aperta Quella Zio deve andare da quel lato Perché mi spingono fuori? Dai, 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 dai Dai, dai, dai Quella porta è chiusa Questa è aperta Ok, dai, dai, dai Siamo messi bene Siamo messi bene, raga A meno che un tonfo finale Un tonfo finale Ma non penso che riusciamo a fare un tonfo finale Dai, dai, dai Quale porta? Quella è chiusa Andiamola da centro Grande abbiamo per caso Passiamo per primi Dai, 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 dai Passiamo per primi Passiamo per primi Passiamo per primi No, no Alza di tic tac Dai, terzi 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 L'ho detto Quando il secondo tentativo Ci va sempre meglio, raga È impressionante Il secondo tentativo Riusciamo sempre a passare E va bene, dai Forse coraggio Forse coraggio Dai, dai, dai Questo gioco L'ho detto Nei video precedenti Mi trasmetto un'adrenalina Che voi non avete idea Dai, così Dai, così Dai, così Raga Dai, così Dai, dai Dai, dai Dai, dai Dai, dai Vediamo quale Esplosione livello, raga Di nuovo memory, raga Di nuovo memory Aia Stavolta dobbiamo stare attenti A tutti i frutti Praticamente Dobbiamo stare attenti A tutti quanti i frutti Memory L'altra volta siamo riusciti a passare Siamo riusciti a passare L'altra volta Questa volta vediamo Un attimino come funziona Vediamo allora Calma, calma, calma Devo avere il più visuale possibile Allora Uva, ciliegia, ciliegia Ok Uva, ciliegia, ciliegia Dove stanno gli altri? Uva, ciliegia, ciliegia Ok Uva, uva Uva, uva Ciliegia, ciliegia Va bene Uva, uva Ciliegia, ciliegia Ok Uno, cosa vuoi? Uvo, ciliegia Uvo, ciliegia Uvo, ciliegia Uvo, ciliegia Ciliegia Scappa, scappa Ok Ci siamo, ci siamo, ci siamo Chi casca? Non è cascato nessuno Tutti bravissimi Complimenti Allora Melone Melone Arancia Ciliegia Allora, aspettate Mi sono confuso Mi sono confuso, raga Melone Ciliegia Uva E arancia Ok Melone Melone Ciliegia No, raga Mi sono perso Cosa vuole? La ciliegia Qua era la ciliegia Qua c'era Qua c'era la ciliegia, raga La ciliegia Qua c'era Buono così Tutti ancora salvi Complimenti alla memoria Banana Uva, uva Melone Banana, uva, uva Melone Arancia e ciliegia Ok Banana Non mi ricordo Banana Uva, uva Melone Banana Melone Uva Ciliegia là sotto No, è l'arancia che è là sotto Cosa vuoi? E uva Dove sta l'uva? Qua stava l'uva Questa che stava qua l'uva Sì Ce l'abbiamo preso, raga Ci siamo qualificati? È finita? No, ancora Qualificati Taglie così Aham 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 Bella così, raga Bella così Qualificati anche al prossimo turno È il terzo Abbiamo superato il terzo livello? Ok Ma ne hanno eliminati pochissimi Siamo passati a essere in 31 i remanenti Restanti 31 Quarto livello, signori miei Quello che l'altra volta ci è costato la 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 qualificazione La qualificazione Vediamo cosa esce Aia 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 Ok Fruit Chewis Ok Fruit Cut Scusatemi Fruit Cut Ok Dobbiamo apparentemente salire una montagna Una rampa E ci arriva di tutto di sopra Qualsiasi tipo di frutta L'ultima volta abbiamo fatto questo livello Ci ha eliminato male Vediamo questa volta di riuscire a Siamo in 18 Ah no Si qualificano in 18 Raga Partiamo dalla seconda fila Dagli così Dagli così No no Siamo terzi Però siamo partiti dalla terza fila Ok di qua si casca Quindi fai un bellissimo salto Occhio alla banana Ripeto quello che ho detto l'altra volta Che quando ho fatto questo livello Che la frutta fa bene Signori miei Ma così tanta ti fa proprio male Dico va bene che la frutta fa bene Occhio all'anguria Dai 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 Occhio occhio Che ci stanno pure l'arancia Occhio 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 No 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 L'arancia Il legno Dai 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 Siamo messi bene Siamo messi bene Siamo messi bene Dai 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 Dobbiamo semplicemente continuare a salire No pure No Bello No Sono saltato Mi so preso l'arancia in faccia Dai 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 Ce l'abbiamo fatta raga Ce l'abbiamo fatta 8 Dai è così Qualificati 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 Spettacolo raga Spettacolo Dai così Dai così Dai così Ci siamo qualificati anche in questo livello Bello così Ne ha limitati una botta Perché eravamo in 31 E infatti In 31 Siamo in 17 In 18 In 18 Ok Bello raga Bello 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 Raga io mi sto gasando un sacco A questo gioco Non so se a voi vi piacciono Vi piacciono Vi piace questo gioco Vi piacciono i video che vi porto Ma io mi sto gasando un sacco Speriamo che ci sia qualcosa di divertente Non Ok Ok questo è quello che si Sparisce il pavimento sotto i nostri piedi Ok Siamo calmi Siamo calmi Questo non è tra i più facili Non è tra i più facili Però giustamente bisogna oramai Selezionare i migliori Per concludere il gioco Praticamente Dobbiamo stare calmi Dobbiamo stare semplicemente calmi Ok Perfetto Perfetto Calma 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 No 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 Sono scemo Sono scemo Sono scemo Sono scemo Dai 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 No no Ma perché mi lancio così Sono proprio scemo Dai 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 No 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 Stiamo a casca troppo Stiamo a casca troppo velocemente Stiamo cascando troppo velocemente Calma 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 no 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 siamo proprio cascati di sotto mamma mia che stupidi ho cercato di fare la tattica quella del saltello di sto no eliminati siamo stati primi a essere eliminati no non ci credo non ci credo e va bene dai raga comunque siamo arrivati anche a questo a questo livello dico dico parliamone siamo arrivati anche a questo livello parliamone è andata più che bene è andata più che bene vediamo ora come è a livello finale no non ci posso credere ha vinto l'oloboy il livello finale pensavo ci fosse tipo la semifinale peccato perché siamo arrivati in finale raga siamo arrivati in finale tantissima roba round 1 round 2 round 3 sono stati eliminati nel round 4 e va bene tanti dei punti per noi saliamo di livello bobblegum no 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 non lo voglio il colore bobblegum ok stiamo sbloccando tante belle cose siamo a livello 3 bella così ragazzoli allora detto questo video vi ringrazio guardato questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti e per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto bella raga ciao ciao